Giovanni Foderaro Direttamente in porta la rete delle 2 a 0 Diciottesimo minuto Spiazza Mercuri accorcia le distanze La formazione ospite con questo calcio di rigore Venticinquesimo minuto calcio di punizione Sei giocatori della Vigor in area di rigore Vediamo la parabola Ed il gol Mascaro Venticinquesimo minuto Mascaro La Vigor Lamezia porta a tre le reti Con Alessandro Mascaro Alessandro Mascaro Grazie a tutti